Cari telespettatori abbiamo qui vicino a noi Cristian Vitali, autore di questo bellissimo libro Calcio Bidoni. Calcio Bidoni perché? Perché questo libro e soprattutto a chi lo vuoi dire? Diciamo che vuole essere un po' un vademecum per i direttori sportivi, per i presidenti, un po' un fantoziano bestiario in cui raccogliamo aneddoti, curiosità ma anche per far ridere, per ricordare un calcio che magari non c'è più ma che fa sempre strappare un sorriso perché comunque ricordo sempre il calcio non è fatto solo da grandi campioni ma anche da personaggi sconosciuti e sfortunati e che hanno creato anche loro una parte di questo sport. In pratica, come dici tu stesso in questo libro, è diretto soprattutto a tutti quei presidenti scemi? Sì, quello lo dice soprattutto Ivan Zazzaroni che mi ha gentilmente curato la prefazione e che effettivamente dice non fatevi prendere troppo dall'ansia dello straniero perché comunque abbiamo anche dei validissimi giovani italiani e la situazione spesso porta a chi non riesce a giocare bene, vuoi perché beve, vuoi perché va a donne, vuoi perché preferisce ben altre cose piuttosto che il campo giocato. E quindi se volete, se vi piace il calcio, se volete passare dei momenti per conoscere meglio questo libro entrate nell'edicole Calcio a bidoni di Cristian Vitali. A voi tutti, grazie da Salvatore Lonoci.